Torniamo in diretta dalla Notte delle Idee su Roma 3 Radio. Abbiamo con noi un altro ospite, Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro del Ministero dell'Istruzione, al quale diamo il buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, prima di tutto volevamo chiederle un'impressione su questa serata e sull'importanza di esserci e di organizzare serate del genere. Allora, questa serata è davvero importante, non solo la location fantastica, ma anche la tematica è il modo in cui è stata affrontata, il fatto che siamo state invitate tante persone giovani, tanti universitari, di diverse culture e la tematica che lega le idee al progetto di una nuova Europa. L'Europa è il nostro continente, noi costruiamo l'Europa ogni giorno, siamo in una fase storica particolare, quindi c'è sempre più bisogno di idee innovative. La storia evolve anche attraverso il coraggio di chi mette in discussione delle tradizioni, magari anche dei concetti passati e cerca di sostituirla con idee che rispondano più ai bisogni, più direttamente ai bisogni delle persone. Io ritengo che le nuove generazioni debbano fare questo, devono avere davvero il coraggio di prendere il toro per le corna, anche in questo caso, e organizzare dibattiti e dialoghi sull'Europa che vogliamo perché l'Europa è nostra e deve sempre di più rispondere a quelle che sono le nostre esigenze, come nel mio caso, come un europeo di mezza età e nel caso vostro come giovani studenti universitari. E parliamo proprio di giovani e in particolar modo di scuola. In quale modo la scuola può aiutare alla costruzione di una coscienza europea? Allora, da questo punto di vista la scuola può fare moltissimo. La scuola è gran parte della vita di chi la frequenta. C'è bisogno di un maggior contatto tra l'idea d'Europa. L'idea d'Europa non è un'idea da libro di storia, è un'idea vissuta tutti i giorni. Bisogna far arrivare il messaggio di un'Europa fatta di persone, fatta di idee, nelle scuole elementari, nelle scuole medie. Far vivere ai bambini l'idea di che cosa significa essere il continente più diverso culturalmente del mondo. Cosa significa convivere con linguaggi diversi, con tradizioni diverse. Cosa significa viaggiare attraverso paesi che, unico caso nel pianeta, non richiedono un passaporto ogni volta che si attraversano la frontiera. Che cosa significa tutto questo e trasformarlo in un linguaggio che possa essere recepito in maniera molto semplice da bambini di diverse età. Io ritengo che per troppi anni, forse, io sono cresciuto con una visione dell'Europa che era assente dalla scuola o veniva percepito come distante. È una questione contabile, è una questione giuridica che poi alla fine forse fa l'erasmus ed è tutto lì. In realtà è molto molto di più. È davvero una fusione di culture. È un progetto bellissimo e estremamente ambizioso. Io penso che se trasferito in maniera accattivante possa entusiasmarare tanti ragazzi. E a proposito di anche gli inizi dell'Unione Europea, parlavamo anche prima, nell'apertura del programma, della ricerca che in realtà è stato uno dei motori trainanti della unificazione europea. Ecco, ad oggi, nonostante tante diversità, molti problemi, può rappresentare la ricerca uno dei punti cruciali per una vera integrazione? Assolutamente sì. Le economie del futuro sono quelle che investono nelle persone. Il capitale umano è ciò che farà il successo dei paesi nel XXI secolo. Quindi investire nel cervello, nella formazione, nelle idee, nella trasmissione culturale è quello che distinguerà le economie di successo dalle economie che avranno meno successo. E quindi la ricerca che già oggi occupa uno spazio importante nella programmazione europea. Circa il 10% quella europea del budget complessivo di tutta la ricerca dei paesi membri. Tra l'altro anche per esempio programmi come Horizon 2020. Esatto, Horizon 2020, Horizon Europe. Stiamo cercando sempre di diffondere. Ovviamente l'Erasmus è parte anche di questo percorso iniziale all'interno del percorso universitario. Può diventare sempre di più perché proprio quell'investimento sul capitale umano, quello che rende la persona il centro dell'economia del futuro. Ecco, questo è il messaggio che io manderei dal punto di vista di un governo, di un paese membro all'Europa. Facciamo davvero delle persone il centro della programmazione, della ricerca e del modello di sviluppo di questo continente. Sempre più le persone, le loro ambizioni, le loro speranze e magari superiamo a volte quelli che sono degli ostacoli contabili, giuridici che hanno negli ultimi anni contribuito a offuscare il sogno europeo e trasformarlo un po' più con il manuale europeo che non scalda più i cuori. Un'altra domanda che diciamo sorge quasi spontanea. Si parla spesso anche negli ultimi anni di fuga di cervelli dall'Italia verso altri paesi. Spesso i paesi di destinazione sono proprio i paesi europei. Ecco, in realtà quindi si deve veramente porre come un problema o come un modo per in realtà ricercare una vera e propria federazione europea? Allora, sicuramente la fuga dei cervelli è una realtà mondiale. L'Italia soffre di un problema strutturale suo che è causato da sottoinvestimenti per troppi anni, quindi non possiamo dar la colpa agli altri. Questo è un problema tutto italiano. E' ovvio che con un'Europa che con la libertà di circolazione d'altro, un problema che forse è sempre esistito è diventato più accentuato. Però la risposta a questo punto è sicuramente dal lato di un paese come l'Italia a cominciare a investire di più e attrarre anche i grandi ricercatori, i scienziati europei che non vedono l'ora di venire a vivere in un paese come l'Italia dove si mangia bene, dove le persone sono cordiali, dove il tempo è molto più, il clima è molto più gradevole di quello di altri paesi europei. Quindi riuscire anche ad avvantaggiarsi di questa libertà di movimento. E' sicuramente quello di favorire anche una piattaforma sempre più europea di circolazione delle menti, delle conoscenze. Ecco, questa è l'idea di un'università europea, l'idea di sostenere sempre di più queste reti universitarie. E' un po' al centro di quello che deve essere, come dicevo prima, un progetto di sviluppo dell'Unione Europea che sia sempre di più basato sulle persone, sulle eccellenze, sulle loro capacità conoscitive e sulle loro expertise, sulle skills e sempre più basato su quella che è il capitale umano. Volevo lasciarla con una provocazione in qualche modo. Abbiamo parlato di Fuga di Cerbelli. Cosa ne pensa invece della creazione di un sistema scolastico europeo? A me piacerebbe moltissimo. Io ho cresciuto i miei figli in quattro lingue. Hanno vissuto in giro per il mondo in Europa, hanno vissuto in Germania e in Italia. Il papà vive in Italia, lavora in Italia, la mamma tedesca e molto spesso sono stati un po' con me qui. Ora tornano nuovamente in Germania. Quello che a me piacerebbe moltissimo è avere sempre più scuole dove la diversità culturale diventa l'elemento trainante. La ricchezza davvero. Per la mia esperienza personale di vita ho sempre ritenuto, ho vissuto tra l'altro vent'anni in Africa dove davvero esistono delle culture che noi conosciamo poco e dovremo apprezzare sempre di più. E quindi l'idea di poter crescere in una diversità culturale, imparare le lingue in una maniera quasi automatica senza dove fare alcuno sforzo, capire che la conoscenza non è la tua contro quella di qualcun altro ma la tua conoscenza e quella di qualcun altro si rafforzano in vicenda. Ecco, farlo nella nuova generazione dei miei figli che oggi hanno 9 anni e 5 anni secondo me è davvero una scommessa che se riuscissimo a realizzarla davvero in Europa saremmo davvero assolutamente il continente con la maggiore prospettiva di crescita e di sviluppo del mondo. Allora noi ringraziamo Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro dell'Istruzione per essere stato qui con noi e buon proseguo di serata. Grazie a voi. Grazie mille.